Stop ai timori di chiusura del reparto di gastroenterologia a Polla. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia di una chiusura dell'unità operativa diretta dal dottor Riccardo Marmo. Una notizia che aveva provocato non pochi allarmismi tra i pazienti che temevano di non poter più ricevere adeguata cura e assistenza sanitaria presso il reparto. Nulla di tutto ciò. A porre definitivamente la parola fine sulla questione arriva il chiarimento congiunto da parte del responsabile del reparto, il dottor Riccardo Marmo, e del direttore sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla, il dottor Luigi Mandia, che con una nota congiunta sottolineano come le attività cliniche di endoscopia digestiva non sono mai state interrotte, con i degenti presso il presidio ospedaliero pollese che proseguono regolarmente il percorso terapeutico e diagnostico senza subire ritardi. Parole tranquillizzanti che confermano quanto emerso già e che evidenziavano come il reparto, come gran parte dei reparti presenti nell'ospedale, al momento dovevano necessariamente essere soggetti al lavoro di adeguamento nell'ambito delle nuove normative anti-covid previste. I pazienti che necessitano della continuità diagnostica e terapeutica già programmata presso la gastroenterologia di Polla, dichiarano il dottor Marmo e il dottor Mandia, non subiranno alcun rivio o ritardo, l'attività procederà come programmato. Inoltre, aggiungono, per i pazienti che attendono di accedere alle visite con l'impegnativa del curante, si comunica che esse riprenderanno in coerenza con la ripresa delle altre attività ambulatoriali del presidio di Polla. Nella nota chiariscono anche motivi che hanno imposto la sospensione dell'attività di endoscopia digestiva che, comunicano, è stata sospesa nella fase dell'emergenza a seguito provvedimento legislativo finalizzato a garantire la sicurezza delle prestazioni sia per il personale medico che per gli utenti e riprenderà non appena saranno completati i percorsi previsti dalle norme per l'epidemia covid-19. Una decisione nota anche perché nei giorni scorsi il dottor Marmo, nel suo ruolo di presidente dell'Associazione Sani, aveva anche reso noto il prosieguo del servizio gratuito Uno Specialista per Te, a cui hanno aderito numerosi responsabili dei reparti dell'ospedale Luigi Curto di Polla per sopperire ai limiti imposti dall'emergenza coronavirus, garantendo comunque il consulto medico. In attesa quindi che gli ambulatori del Luigi Curto possano riprendere regolarmente le attività, resta attivo fino alla fine di giugno il servizio gratuito dell'Associazione Sani. Inoltre il dottor Riccardo Marmo fa sapere che è stato istituito un ulteriore servizio. Telefonando al numero 0975 373242, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, è possibile ricevere un consulto medico telefonico e ogni tipo di informazione o comunicazione inerente il proprio stato di salute.